Ciao ragazzi, non so se si vede, ma sono sotto la neve, oggi sta nevicando tantissimo, veramente, e spediamo se, scusate, non so se, dopo vi faccio vedere meglio lì, è una giornata, oddio siamo verso la fine di febbraio ormai, e come vedete mi sto, mi sto riempiendo di neve perché sta nevicando veramente tanto, ci sono dei fecchi enormi che vengono giù, infatti, bene, sono piena, niente, volevo fare un saluto sotto questi fiocchi di neve, l'altro giorno avevo fatto un video sotto la luce del sole e non mi è piaciuto, e adesso sotto la neve non posso non farlo, ho mangiato un fiocco, scusate, non ci sto tanto perché sennò mi infradicio, però è bellissimo, io adoro la neve, veramente è uno spettacolo, volevo farvi vedere il mio cane, ma, patata, vieni, vieni, aspettate, aspettate che me la inquadro, eccolo lì, qua, è un po' pauroso, vieni, dai, vieni a fare un gioco tutta neanche tu, no, tutto a che treni, vieni qua, vieni qua, fatti vedere dalle mie iscritte, guarda, ciao, ciao, la mia patatina, ogni tanto non guardo, noto che guardo come rimango nel video invece di guardarmi nell'inquadratura, amore, la mia cucciolotta, tutta tremolosa, dai saluta, ciao, 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 vabbè ragazzi, questa ne ricanda veramente tantissimo, la mia patatina, non so se vedete, sta tremando, cucciolotta, andiamo dentro a mettere la giacchettina, andiamo al caldo con la stufa, e adesso vi lascio il video che ho girato con con i fiocchi che cadono, ciao mille, ciao a tutte ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.